Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Mi chiamo Emily, ho 26 anni e sono una ragazza afro-italiana Natti. Due anni fa ho deciso di intraprendere questo percorso e di far crescere i miei capelli afro al naturale, smettendo completamente quelle stirature chimiche. Un anno fa invece ho deciso di aprire una pagina Facebook che parlasse appunto che divenisse un punto di riferimento per tutte le ragazze afro-italiane che avevano preso come me questa decisione di tenere i propri capelli al naturale. Nel giro di un anno questa pagina è aumentata in maniera molto veloce, ho conosciuto tantissime ragazze, ma soprattutto mi ha aiutato anche interiormente. Visto il crescere e l'aumentare di così tante persone, di tanti follower, ho deciso di aprire un blog, un blog che potesse racchiudere tutte le informazioni che c'erano sulla pagina Facebook, perché come si sa con Facebook le informazioni tra stati, foto e quant'altro si perdono. Mentre invece sul blog si poteva creare un bel contenitore. Questo contenitore ho deciso di chiamarlo Nappi Italia. Nappi lo lascio immaginare perché Italia per il collocamento geografico, siamo in Italia. Il blog è diviso in diversi scompartimenti, abbiamo le topic Nappi, dove discutiamo gli argomenti, i consigli, le Nappi Stories, sempre per portare le storie delle altre ragazze sempre nel blog, per non lasciare quel senso di community che c'è sulla pagina Facebook. La Nappi History, perché i nostri capelli hanno una storia, se abbiamo stirato i nostri capelli negli anni c'è un motivo, ma noi non lo sappiamo. Le Nappi celebrities, in Italia ci sono dei personaggi, attori, registi, giornalisti, che hanno anche loro intrapreso questo viaggio, hanno preso questa decisione. Quindi perché non esporle? Perché noi ragazzi afro-italiani abbiamo pochi esempi, pochi punti di riferimento. Quindi questo potrebbe essere un modo, oltre ai capelli, di raggiungere qualcos'altro. video. Beh che dire, pagina Facebook, blog, però qualcosa mancava, i video. Eccoli, ciao! Ciao!